eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre ragazzi mi torno a scusare purtroppo per la voce ma purtroppo sto ancora con l'influenza ultimi giorni di antibiotico speriamo che per lunedì riuscirò a stare meglio come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo video informativo e passate a visitare il mio profilo di instagram oggi due notizie molto importanti che arrivano direttamente dal profilo twitter della sledgehammer games e di call of duty sono attivi i doppi punti multiplayer e i doppi punti arma all'interno delle playlist dedicate al nuovo dlc1 the resistant come sapete il 30 di gennaio è uscito il primo contenuto aggiuntivo di call of duty world world 2 che contiene tre mappe multiplayer valkyrie anthropoid e occupation la nuova mappa guerra operation intercept e la nuova esperienza zombies l'isola delle tenebre di dark shore quindi in tutte le playlist quindi nel mosfet resistente e in tutte appunto le playlist dedicate al dlc1 compresa operation intercept ci sono per questo weekend punti doppi armi e punti doppi multiplayer quindi il tutto si è attivato praticamente ieri sera e terminerà lunedì alle ore 19 vi ricordo invece che in tutte le altre playlist del gioco sono attivi i doppi punti per quanto riguarda le divisioni queste invece termineranno il 6 passiamo a parlare invece dell'altra notizia riportata sempre dalla sledgehammer games in merito a ieri perché come sapete c'è stato un aggiornamento interno del gioco infatti ci ha fatto fare un download con un rianvio infatti ci sono state modifiche per quanto riguarda le partite classificate demolizione e la modalità zombies e allora praticamente le novità sono state principalmente 4 è stato risolto il problema con le partite classificate in merito ai punti che non venivano assegnati correttamente appunto i punti esperienza l'xp è stato risolto il problema del whirling all'interno di zombies è stato risolto il problema dove le bombe che c'erano in demolizione apparivano troppo vicine tra di loro è stato risolto il problema di interfaccia utente in demolizione in cui il timer del match non si interrompeva quando la bomba è stata piazzata questo aggiornamento è stato rilasciato nella giornata di ieri su ps4 e xbox one mentre su pc praticamente si è attivato nella notte qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate mi scuso ancora per la voce ma purtroppo sto ancora con l'influenza che non mi passa e poi questi giorni non posso neanche mancare da lavoro perché ho delle scadenze molto importanti arriviamo a 500 mi piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video grazie a tutti grazie a tutti